A Caltagirone si accentuano le turbulenze politiche in vista dell'imminente approdo in aula della seconda mozione di sfiducia nei confronti del sindaco Nicola Bonanno. La partita attesa martedì 21 aprile, stando alle previsioni, dovrebbe giocarsi sul filo di lana. Rispetto ai 20 voti attesi in aula per destituire sindaco e giunta, dovranno contendersi la sfida i 16 firmatari della mozione e i tre consiglieri di Forza Italia, che pur non firmando il documento lanciarono il mese scorso un ultimatum di 10 giorni al sindaco, entro i quali avrebbe dovuto dimettersi pena la sfiducia. Io in qualità di Presidente del Consiglio, quello che dico sempre in questi casi è un senso di responsabilità da parte di tutti i consiglieri comunali. Non abbiamo potuto pagare gli stipendi del mese di marzo ai nostri dipendenti comunali, perché il Ministero ha oggi, il Ministero ha oggi, dico ripeto la frase, fino a in questi giorni non c'è stato un trasferimento da gennaio ad aprile. Aspettiamo un trasferimento dalla regione Sicilia, che di settimana in settimana sta rinviando, per poter così pagare lo stipendio del mese di marzo. Gli elementi da analizzare sono svariati, a cominciare dal breve lasso di tempo, intercorso dello scorso 30 giugno ad oggi, allora quando 15 consiglieri comunali proposero la prima richiesta di sfiducia al Sindaco, poi superata dallo stesso Bonanno. Noi sappiamo che abbiamo ogni mese una trattenuta dalla banca di oltre 400 mila euro, che sono mutui contratti dalle precedenti amministrazioni per finanziamenti che sono stati utili per la città, però ci ritroviamo che ogni mese una detrazione di 400 mila euro, a fronte dei finanziamenti che arrivano già a singhiozzo di per sé, quindi siamo nelle condizioni di avere sempre ogni mese mille difficoltà, così anche la zeta luce con le illuminazioni, così tutte le altre situazioni a cui ci ritroviamo, appunto siamo nelle situazioni di estrema difficoltà. Tenuto conto sempre, ripeto, che dal Ministero a oggi non è arrivato un centesimo, dalla Regione la stessa cosa, quindi dobbiamo navigare in pieno mare aperto e siamo sicuri che andremo avanti per il bene, ripeto, della nostra città. Grazie 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 Grazie